Sì e accettò il fatto che si stavano separando. E ora che già stanno soli e che stanno separati, divorciati, incluso con i papi firmati, non c'è possibilità di restare insieme? Claudia? E adesso che si è separato, divorciato anche con i documenti, non è possibile che vi rimettiate insieme? Non credo. E lei vuole che non... Io sono molto ferita, però non credo perché lui non credo che voglia tornare con me. E lei soffre molto e credo che Maxi non va a regressare a lei. Però lei sta innamorata e vuole tornare? Sì. Sì, ancora sta innamorata. E Maxi sta con altra mujer in questo momento o sta solo? Guarda, a proposito di... In questo momento è da solo o a un'altra donna? A proposito, esatto, di questa cosa che ho lanciato e quindi che mi arrivano tutti i giorni notizie, mi sono arrivate parecchie notizie da Catania che ancora non ho messo e che vi sto dicendo a voi in esclusiva che lui, che Maxi ha lasciato Claudia per un'altra donna. Ah, la dejò per un'altra. La dejò per un'altra. La dejò per un'altra. La dejò per un'altra mujer. Maxi dejò a Claudia per un'altra mujer. Sì, esa mujer... Il problema è che lui o adesso entro al mercato di gennaio o a giugno viene a giocare da voi in Argentina. Questa notizia che ti do è proprio una notizia dell'ultima ora quasi. Dell'ultima ora. Quasi dell'ultima ora. Cioè mi sono arrivate già in questi due o tre giorni e stamattina una riconferma nel mondo del calcio che frequento, che conosco. Perfetto. Chi dice che Maxi sia presto per giocare in Argentina? Cioè... Chià? Chiiga. Chiangeli. Chi gi studen? Chi true. Chi min? Chi. Chiega.